Ciao a tutti, sono Marcello e oggi vi parlerò di un argomento importantissimo per quanto riguarda la scelta di un tapirulan, ovvero la sicurezza. Lo farò con un modello firmato di Adora che fa parte della famiglia XS ed è il 5.6. Vediamo subito di che cosa si tratta. Eccoci appunto sul XS 5.6, un tapirulan molto molto carino come potete notare, appunto della famiglia di Adora e partiamo subito dicendo che ha un motore molto prestante perché ha una potenza da 2,25 cavalli, ciò ti permette di raggiungere anche una velocità buona di corsa fino a 16 km orari. Ha anche un'inclinazione elettrica del 12%, l'inclinazione elettrica ti può permettere di allenarti andando a simulare magari una camminata in salita come potresti fare all'aperto in montagna. Le dimensioni del nastro di corsa su questo prodotto sono di 45 x 130 cm. Su questo modello ci sono anche degli elastomeri, sono 7 elastomeri, che permettono una buonissima ammortizzazione, un sistema di ammortizzazione in maniera tale che quando stai correndo vai a sollecitare molto di meno le articolazioni e anche la muscolatura, quindi di conseguenza il corpo soffre di meno e si vanno a prevenire anche gli infortuni. Un'altra cosa da dire è che la console è molto carina, molto bella, c'è uno schermo molto grande, è uno schermo dove durante il tuo allenamento puoi andare subito ad osservare delle cose importantissime come il tempo di allenamento, la distanza che stai percorrendo, la velocità e anche la stima delle calorie bruciate. È un tappeto il 5.6 che ha anche 42 programmi di allenamento, quindi ti puoi sbizzarire veramente come meglio credi. L'altra cosa da aggiungere è che ha sui corrimano dei sensori palmari, questi sensori palmari ti permettono appunto appoggiando in una maniera molto facile le tue mani di andare a visionare la frequenza cardiaca di lavoro, puoi vedere subito il tuo battito cardiaco. Ci sono i tasti di selezione rapida sempre sulla console per quanto riguarda sia la velocità che la pendenza e abbiamo gli stessi comandi di selezione anche sui corrimano. E adesso parliamo appunto del argomento di oggi, ovvero la sicurezza nella scelta di un tappeto. Innanzitutto pensate che esiste una normativa europea che serve per dare determinati requisiti che devono appunto avere i macchinari di allenamento. Tale normativa si chiama EN 957. Uno degli aspetti più significativi di questa normativa è sicuramente quello del rapporto fra velocità e dimensione. del nastro di corsa, quindi attenzione a quello che vi sto per dire. Se il tappeto ha una dimensione del nastro di corsa di minimo 100 cm per 40, vuol dire che la velocità massima che potrai raggiungere sarà di 8 km orari. Se invece vogliamo andare fra gli 8 km orari e al massimo i 16, il nastro di corsa dovrà avere una dimensione che rientra minimo fra i 120 e i 40 cm. Al di sopra, infine, dei 16 km orari, il nastro di corsa deve avere la dimensione minima di 130 per 40 cm. Sapete che cosa mi è successo spesso in palestra? Che le persone mi chiedessero a che cosa serve questo cavo appoggiato al tappeto. Ed in realtà, proprio riferito alla sicurezza, è un cavo importantissimo, perché in realtà non è un cavo ma è una chiave di sicurezza. Come funziona? Da una parte c'è un magnete. Questo magnete non fa altro che attivare o disattivare l'utilizzo del tapirulana. Dall'altra parte c'è una clip. La clip viene inserita a un indumento, ti faccio un esempio, magari nella t-shirt, e mentre ti stai allenando, magari stai correndo in velocità, sbadatamente in ciampi, ti impedisce di incombere nell'infortunio. Quindi si stacca e va a disattivare in maniera molto veloce il tappeto. Come avrete notato, ogni tapirulana è dotato anche di due bande laterali. Sono proprio quelle che notate alle estremità del nastro di corsa, quindi chiaramente la banda laterale a sinistra e a destra. Secondo la normativa europea che vi dicevo all'inizio, quindi la famosa EN957, queste bande laterali, che si chiamano, le potrete trovare anche come side rails, devono avere una misura minima in larghezza di 8 centimetri. Perché questa cosa? Perché questi 8 centimetri serviranno per iniziare, o comunque durante la fine dell'allenamento, per posizionarci sopra i nostri piedi. e poi ti farò vedere esattamente come. Come vi sono i due side rail appoggiati appunto per il supporto dei piedi, nella parte alta di un tapirulana vi deve sempre essere la presenza di due corrimano, che vengono utilizzati chiaramente al bisogno. Anche i corrimano rientrano nella normativa EN957 quando un tapirulana supera gli 8 chilometri orari. Dunque, vi ho spiegato l'importanza e l'utilizzo della chiavetta. Vi ho spiegato a che cosa servono i due side rails che trovate appunto alla base e vi ho spiegato l'importanza dei corrimano. A questo punto ti mostrerò come iniziare l'allenamento in tutta sicurezza. Quindi, prima cosa da fare, inserimento della chiave. Io la metto nella mia t-shirt. Mi posso appoggiare momentaneamente con le mani sui corrimano e i piedi saldamente appoggiati sui side rails. Aziono il macchinario, quindi starterizziamo. Il macchinario fa sempre un countdown di 5 secondi. Questo countdown serve anche per farti capire che è una specie di segnale. Ti fa capire che devi stare attento perché lui sta per iniziare il movimento. Un'altra cosa in sicurezza che fa il tapis roulant è iniziare il movimento ad una velocità veramente bassa. In questo caso sono un chilometro orario che serve appunto per posizionarti ancora meglio sul nastro di corsa con i piedi. Fatta questa cosa, posso iniziare ad aumentare la velocità ed eventualmente la pendenza. Durante l'allenamento ricordati sempre un'altra cosa importantissima, ovvero di mantenere una postura corretta. Qual è la postura corretta? Innanzitutto è di guardare sempre davanti a te, senza distrarti guardandoti in giro. Ti faccio un esempio, se decidi magari di guardare qualcosa in televisione, abbia almeno l'accortezza di avere la tv davanti a te o comunque magari il tablet posizionato nello schermo, nella console di fronte a te. In questo caso se io mi dovessi girare e non lo sto facendo, dovrei fare una cosa di questo tipo, quindi mi appoggerei un attimo con le mani e dovrei fermare momentaneamente la corsa. Quello che intendevo dirti è non girarti con il capo, perché altrimenti rischi di fare un bruttissimo capitombolo. Detto questo, ricordati anche durante la camminata o comunque la corsa, di non mantenere mai le mani appoggiate sui corri mano, perché questa cosa ti crea tantissima tensione che poi si trasmette anche nella zona lombare. Quindi segui in maniera naturale il movimento del corpo come se stessi veramente camminando all'aperto, come se stessi facendo una passeggiata. Schiena dritta e magari un bel sorriso. Un altro consiglio che mi viene da darti è quello di utilizzare durante l'allenamento un outfit adeguato. Sta a significare un paio di scarpe da ginnastica con la suola in gomma, un abbigliamento sportivo, senza andare a utilizzare magari un abbigliamento con troppi fronzoli. Quindi magari, non so, delle t-shirt troppo svolazzanti o magari delle gonne, ecco. L'altra cosa molto importante è di non utilizzare durante l'allenamento degli accessori di vario genere, come per esempio anelli, orecchini, catenine. Queste cose irreparabilmente potrebbero cadere facendoti distrarre. E l'altra cosa, sempre cadendo, si potrebbero andare ad incastrare nel nastro di corsa o magari nei rulli, facendoti appunto nuovamente distrarre e cadere. Abbiamo parlato di tante cose, i requisiti della famosa normativa europea. È chiaro che l'altra cosa molto rilevante è quella del buonsenso durante l'acquisto di un tapirulana. Quindi per cui, in base alla tua corporatura, cerca di scegliere un tappeto adeguato alle tue esigenze. Anche che siano esigenze tipo di velocità elevata, piuttosto che di tempo di utilizzo durante la settimana. Sono tutte cose che incidono tantissimo. Infine, quasi tutti i nostri modelli sono dotati di un pistone servo assistito. Questo pistone ti facilita tantissimo la chiusura, il trasporto, una volta che il nostro tappeto diventa appunto salvaspazio, ma serve tantissimo anche durante la chiusura. In questo caso si apre, vedete che il pistone fa la sua funzione, e durante la chiusura del tappeto ti consiglio di andare prima di tutto in accosciata, quindi per prevenire gli infortuni sulla schiena. Vado ad afferrare il tappeto, e in una maniera molto facile il pistone mi aiuta durante appunto il movimento. Spero di esserti stato utile durante il tutorial di oggi, e adesso non mi resta altro che prendere il mio tappeto e andarlo a riporre in sicurezza. Ciao!